Continuano i disagi post alluvione, a gridare aiuto ed attenzione sono anche le famiglie sfollate che dal 15 ottobre, quando l'ondata straordinaria d'acqua ha travorto il sagno, sono ospitate presso la cittadella della Carità in via San Pasquale. Due famiglie pochi giorni fa hanno lanciato un appello ad otto pagine, alle istituzioni e dal comune in particolare, chiedendo di poter avere una casa provvisoria per dare ai propri figli una quotidianità. Innanzitutto un chiarimento. La struttura del San Pasquale è del comune di Benevento. La Caritas ha preso in gestione per un accordo la struttura di San Pasquale anche per le evenienze che sono purtroppo sovraggiunte, quindi quelle famiglie sono ospitate in una struttura del comune di Benevento. Non ci sono delle casse a disposizione pubbliche. Dobbiamo andare sul mercato e prendere delle casse in fitto e noi pagheremo il fitto perché sono alluvionati. Spero che per Natale queste famiglie abbiano un appartamento o perlomeno avremo fatto tutto il possibile per dare una risposta di questo tipo.